Guglielmo Poggi ci rivediamo dopo il tutto fare insomma la tua carriera è decollata come era giusto che fosse e adesso ti è stato affidato un ruolo sì comico ma un ruolo abbastanza impegnativo perché sei praticamente diciamo così l'alter ego di Luigi Di Maio in bentornato presidente insomma innanzitutto quando ti hanno proposto la parte qual è stata la tua prima reazione hai avuto un attimo di timore ma guarda no ero felicissimo ero entusiasta all'intanto grazie perché voi siete stati profetici ma insomma devo dire che c'è stata la parte vostra una grande generosità già ai tempi del tutto fare devo dire che quando a me è arrivata la cosa io mi sono subito esaltato perché più che fare un'imitazione e considerare Di Maio o i politici che comunque se stanno là è per un motivo quale che sia però stanno là per un motivo a me piaceva raccontare questa umanità questa umanità che tra l'altro sta commentando sotto il nostro trailer e sotto il poster del film insomma è raccontare una gioventù ma non solo una gioventù di persone che vivono contro qualcosa vivono per l'odio di qualcosa con questo ghigno di chi ne sa di più senza sapere niente e questo credo che insomma non sia casuale cioè credo che sia insomma quando è arrivato e ho letto ho pensato ok ho il modo di parlare di qualcosa che conosco di questo mondo social di questa cosa delle fake news è un mondo che conosco lo conosco bene e quindi ho detto che figata farlo adesso cominciano i dolori perché se il film dovesse mai avere successo insomma mi aspetto che possano esserci delle ripercussioni direi senza scaramanzia che sicuramente il film avrà successo però qual è secondo te la reazione che insomma ci sarà a questo ruolo quindi in questo caso dalla parte di Di Maio e dei 5 stelle che hanno dimostrato insomma a volte di come dire non apprezzare particolarmente la satira ma io confido nell'intelligenza di Luigi Di Maio delle persone che gli stanno attorno confido nella loro intelligenza per capire che noi ne abbiamo dato comunque un contratto molto umano perché noi siamo abbastanza consapevoli del fatto che non abbiamo e a un certo punto nel film mi metto pure a piangere perché le cose non vanno ne abbiamo dato un senso infantile bambinesco ma di persone buone non abbiamo disegnato delle persone cattive è il mondo che le incattivisce è il potere che le incattivisce ma non sono persone cattive penso che Di Maio possa in questo senso vedersi rispecchiato relativamente insomma se non per il fatto che sono delle persone buone che cercano di fare del loro meglio e poi quello che gli succede non è del tutto colpa loro quindi c'è una sperzante satira questo sì ma non abbiamo accusato nessuno di niente anzi direi che ne escono in maniera molto umana senti e adesso visto che appunto hai fatto tutto fare hai fatto anche questo bentornato presidente adesso i ruoli si moltiplicano eh però però sì lo so la scaramanzia non ci non ci interessa non ci interessa comunque se vuoi non sei inquadrato se inquadrato mezzo busto quindi vuoi fare tutti gli scongiuri ecco ma innanzitutto proponi tu magari una cosa che ti piacerebbe fare perché poi sappiamo che tu sei anche regista quindi magari è ora di iniziare a pensare al famoso salto della quaglia ma per quello c'è tempo e devo dire anzi grazie perché io ho avuto l'occasione di lavorare con tutti i registi molto fichi non ultimi Giuseppe Giancarlo che sono dei maestri insomma la regia di questo film non lo dico non è certamente una novità quanto siano bravi Giuseppe Giancarlo e quindi io sto imparando da questi e ci vado molto piano se devo pensare a un ruolo che mi piacerebbe fare come ha detto Pietro è molto affascinante fare i villain visto che c'è una gioventù molto forte in questo momento una gioventù che è debole da un punto di vista generazionale ma che fra un po sarà molto potente se entro i 35 anni mi fanno fare un bel cattivo sono felice ma non un cattivo da fumetto è cioè un personaggio che ci abbia un marciume dentro ripeto questi questo personaggio fatto non è marcio è in un mondo marcio ma non lui non è marcio invece mi piacerebbe fare proprio un personaggio marcio squallido cattivo veramente cattivo veramente ambiguo mi mi piacerebbe molto sarebbe un bel challenge allora per chiudere fai un appello agli spettatori perché venire a vedere bentornato presidente lo dico io perché fa veramente ridere è veramente simpatico e merita assolutamente la visione però dai tu anche una motivazione per venire al cinema dal 28 marzo perché è un film che assolutamente una commedia di fantasia è una commedia romantica di fantasia ma in un'ambientazione molto reale e visto che come diceva nicola maccanico spesso abbiamo la necessità di vederci riflessi in quello che vediamo bisogna che si parli di noi in questo film si parla veramente di noi e perciò è bello farsi una risata vedendo vedendoci raccontati per questo vi invito a venire tutti perché si parla di tutti indipendentemente da cosa si vota indipendentemente da quanto si arricchi si parla di tutti e questo mi sembra una bella novità perciò in bocca al lupo a chi viene a vederci perché sono certo che sarà toccato senza dubbio grazie a voi ragazzi siete sempre bello avere a che fare con voi